Importante novità per Fabio Fazio. Infatti, nella nuova stagione televisiva di Che Tempo che fa che ripartirà domenica 6 ottobre su 9, ci sarà una nuova presenza stabile in studio. Assieme a lui, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbach e coloro che erano già sicuri del post, ci sarà un altro personaggio che entrerà a far parte del cast fisso in questa nuova annata per il programma. Innanzitutto sappiamo che Fabio Fazio ha puntato in grande per la prima puntata di Che Tempo che fa. Prima di parlarvi dell'ospite fisso, il presentatore ha deciso di intervistare grandi personaggi come Damiano David De Manesquin, che ora però sta portando avanti anche la carriera da solista, Amadeus, Claudio Bisio e Monica Maggioni. Come scritto dal sito Davide Maggio, Fabio Fazio a Che Tempo che fa ha confermato nel cosiddetto Che Tempo che fa il tavolo Nino Frassica, la signora Coriandoli, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani e Simona Ventura. Ma entreranno in scena da quest'anno anche Diego Abbatantuono e Max Giusti. Ma nel cast, oltre ai ritorni di Ornella Vanoni e Roberto Burioni, ci sarà un volto nuovo. L'inizio vero è proprio di Che Tempo che fa è programmato per le ore 20 del 6 ottobre. La new entry della trasmissione in onda sul 9 sarà Edoardo Prati. Si tratta di un giovane divulgatore letterario che ha ottenuto un gran successo sui social network. Su Instagram è infatti seguito da oltre 560.000 follower. Edoardo Prati è soprannominato il Barbero di TikTok, dato che il suo lavoro di divulgazione assomiglia a quello di Alessandro Barbero. Classe 2004 originario di Rimini, è uno studente di lettere classiche dell'Università di Bologna e gira già i teatri con il suo spettacolo. Ora sarà protagonista anche in TV a Che Tempo che fa.